buonasera purta che tardi sono le 11 non mi si carica più questa sera faccio un video con un semplice e purificatore in moltissimi sensi esercizio sciamanico è un esercizio dello sciamanesimo peruviano dello sciamanesimo tolteco ma è un esercizio è un esperimento che faccio in questo video allo scopo allo scopo di farvi capire e farvi sperimentare anche un inizio di ciò che può essere seguire la linea dello sciamanesimo psicologico dallo sciamanesimo psicologico poi si può entrare nello sciamanesimo mistico con degli studi e con delle pratiche differenti ma lo sciamanesimo psicologico è quello che è maggiormente alla portata di tutti e aiuta nel vero senso della parola a rimparare a esistere questo esercizio serve per tre cose fondamentali il primo è di riallineare i nostri punti energetici nelle dottrine orientali vengono chiamati chakra lo sapete ma ci sono invece le dottrine occidentali e in questa particolare appunto andina di 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 estrazione tolteca presumibilmente di radice tolteca riallinea gli stessi punti energetici grosso modo sono molto simili che venivano identificati chiamati occhi in cosa consiste questa riequilibrazione dei punti energetici ma soprattutto a cosa serve consiste nel farci stare meglio niente di più niente di meno a cosa serve a farci stare meglio a chiarire le nostre idee e a eliminare tutta la l'oppressione delle energie pesanti questo perché prima vi do una leggera spiegazione poi facciamo l'esercizio perché nello sciamanesimo nelle culture sciamaniche non c'è la cognizione scusate dell'energia negativa e dell'energia positiva uno sciamano non verrà mai a dirti sento energie negative è una terminologia utilizzata in occidente che non ha nemmeno senso di essere io in effetti quando leggo certi post dove qualcuno scrive vedo sento avverto energie negative vibrazioni negative mi mi scappa da ridere mi astengo da rispondere in effetti non dico mai niente io sono una che non non vuole avere ragione per forza io faccio i miei video e i miei post chi mi ama mi segua nel senso che non me ne frega niente di andare nel post di qualcun altro o nel video di qualcun altro eccetera a dare la mia opinione senza che sia stata richiesta sul suo modo di vedere o di pensare ma leggo leggo tutto osservo tutto osservo anche più del normale purtroppo per fortuna e trago le mie conclusioni quindi vedo se uno sta dicendo delle cose che hanno un senso seppur magari io le chiami con un altro nome seppur magari io le differenzi in qualcosa però hanno un senso reale per ciò che io conosco ovviamente e quando invece è solamente la solita cagata qualcuno mi ha detto che essendo che mi definisco scrittrice non posso essere volgaro scurrile ma io invece quando vedo che uno scrive o dice delle cagate dico che scrive dice delle cagate sono scurrile eppure sono scrittrice lo stesso a voce mi piace essere me stessa quando scherzo mi piace essere me stessa io non devo darti un'immagine di me perché mi dichiaro scrittrice o perché mi dichiaro strega o perché mi dichiaro sciamano o per qualsiasi cosa perché mi dichiaro una donna occidentale purtroppo occidentale di 48 anni non ho bisogno di dare un'immagine se volessi dare un'immagine mi truccherei mi farei nuovi capelli metterei dei filtri mi terrai a dieta ma a me piace dare l'immagine vera di quello che sono non mi piace attirare le persone facendomi più bella più fine il pavone della situazione ma questo era un opinionismo personale torniamo invece allo sciamanesimo psicologico psicologico perché ci pulisce la mente e ci permette di comprendere e di capire tutto ciò che ci circonda ci permette di capire la vibrazione universale ci permette di capire anche se una persona ci sta dicendo una balla o la verità ci permette di capire e di conoscere le cose su cui abbiamo tante domande qualsiasi genere anche se è vero che quell'amica ieri è uscita con l'altra amica o è rimasta a casa e ha fatto finta perché non mi voleva vedere sto facendo proprio un esempio scemo 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 ma torniamo allo sciamanesimo lo sciamanesimo si basa proprio sul modo di sentire e di percepire tutto ciò che ci circonda si basa sull'imparare a capirlo a capire tutto quello che ci accade e guardate che è una cosa enorme perché il 99,9% delle persone non riescono a capire cosa gli sta succedendo se lo capissero non andrebbero nemmeno a farsi fare né visite né veggenze né come si dice consulenze perché se uno capisce già tutto da solo non ha nemmeno il bisogno di chiedere conferme e lo sciamanesimo è questo per quello che gli sciaman gli sciamani venivano interpellati dalle persone comuni per qualsiasi loro problema il termine stesso sciaman in antica lingua siberiana significava colui che conosce che sa la persona che sa tutto che capisce tutto che conosce tutto la stessa terminologia peraltro dall'altra parte del del mondo antico ovvero in lingua sanscrita che sarebbe sciaman però l'assonanza è quasi la stessa significa colui che è ispirato dagli spiriti perché perché uno sciamano quando conosce tutto conosce anche la verità sugli spiriti sulle altre dimensioni su tutto diventare sciamani è un percorso ovviamente non è che perché fate un breve esercizio diventate sciamani ma questo esercizio vi da delle prove concrete se lo fate come va fatto di cosa è ripulirsi aprirsi nella comprensione del tutto e soprattutto quello di riallineare le vostre energie secondo lo sciamanesimo come vi dicevo all'inizio non esistono le energie negative e neanche le energie positive non c'è questo distacco ma è un flusso è un uruboro un serpente che si morde la coda un otto l'infinito è un passaggio di dare avere tutto ciò che dai viene ricevuto e tutto ciò che tu ricevi devi dare in cambio la legge dell'universo la legge del cosmo niente di più niente di meno a volte ci sono persone che dicono eh io do tanto e non ricevo uno sciamano gli riderebbe in faccia perché tu non è che dai e ricevi ciò che ti aspetti di ricevere uno che comprende la psicologia dello sciamanesimo capisce che sta comunque ricevendo mentre dà queste energie di cui vi parlavo ci sono comunque nella loro distinzione in due lati una viene chiamata ucia in sciamanesimo andino ed è un'energia pesante bloccante ha un peso e poi c'è sami l'energia sottile pulita è come dire ucia è l'aria di città piena di smog di particelle di odori e sami è l'aria di montagna fresca pulita senza senza che si sentano appesantimenti quando la respiri questo esercizio si basa proprio sul assorbire sami quindi assorbire l'energia sottile pulita che leva i blocchi di addosso e scaricare ucia secondo lo sciamanesimo e questo è un po' tutto lo sciamanesimo nativo tribale un po' di tutto il mondo sami l'energia sottile e pulita viene prodotta da tutto ciò che è naturale viene rilasciata prima di tutto dalla terra da come la chiamano gli andini da madre terra la paciamama dalla dea gaia chiamatela come volete e da tutto ciò che è naturale quindi dalle piante dal cosmo dai pianeti dalle dagli animali da tutto ciò che è pulito mentre invece ucia viene prodotto l'energia pesante viene prodotto solo ed esclusivamente da un essere su questo pianeta ed è l'essere umano l'essere umano è l'unico in grado di produrre la vibrazione pesante l'energia pesante ucia che ci blocca blocca i nostri pensieri scombina i nostri punti energetici blocca le nostre emozioni le fa esplodere dove riescono a uscire perché se tu comprimi un sacchetto di plastica che è pieno d'aria o pieno d'acqua st'acqua e sta plastica scoppierà dove trova una via d'uscita perché viene compresso è la stessa cosa in effetti gli sciamani vivono al minuto neanche alla giornata tutto ciò che accade è perché deve accadere uno sciamano non ha ansie non si preoccupa di cosa accadrà tra un'ora lascia che il tutto fluisca come deve fluire tutto vada come deve andare ma purtroppo le persone comuni non riescono a far scorrere l'esistenza e quindi accumulano ucia che producono loro stessi ma ucia è pesante e li schiaccia li comprime li sbilancia questo esercizio che voglio proporre questa sera è proprio il primario il primo esercizio per rimparare ad assorbire sami quindi ricaricarsi di tutto ciò che è pulito e alleggerirsi e scaricare ucia dove la scarichi ucia l'energia pesante può essere rielaborata può essere assorbita solo da madre terra solo da gaia solo all'ingiù da sopra arriva sami spinge via pian piano ucia ucia esce dai nostri piedi poi vi spiego perché ve l'ho detto e si scarica a terra madre terra la dea gaia la dea flora paciamama chiamatela come vi pare il pianeta terra la assorbe la mangia e rilascia nuova sami nuova energia sottile leggera durante questo esercizio uso lo jambe così voi seguite soltanto quello che vi dico di fare se avete avuto una giornata particolarmente stressante stancante incazzosa e quant'altro ancora di più prendetevi adesso il vostro tempo se non potete ora potete anche stoppare il video e poi riprenderlo in un momento in cui invece avete la possibilità di fare quello che vi dico di fare è molto molto semplice ma lo sciamanesimo è semplice è naturale e lascia che tutto scorra chiudete gli occhi e concentratevi sul suono dello jambe che Ora, sempre con gli occhi chiusi, iniziate a immaginarvi all'interno di una colonna di luce. Tutto il vostro corpo è all'interno di una colonna di luce. Una luce azzurrina, una luce bianca, una luce lilla, una luce che è fresca, pulita. Questa luce, questa colonna, scende su di voi dall'alto. Immaginate, sempre con gli occhi chiusi, che questa colonna scenda su di voi e vi ricopra completamente. In contemporanea, immaginate ora che mentre la colonna scende su di voi, da voi inizia a essere spinto verso il basso del fumo grigio, che viene schiacciato dalla colonna di luce e viene compresso sempre più in basso. Il fumo scende, schiacciato dalla colonna di luce, sempre più trasparente, luminosa. Questo fumo scende verso l'addome, scende sulle cosce, all'altezza delle ginocchia, arriva alle gaviglie. Ora ci sono solo pochi centimetri di fumo, schiacciato, compresso, ormai da grigio è diventato quasi nero, sui piedi. Adesso la colonna ha raggiunto i piedi. Dai piedi fuoriesce questo fumo e lo vedete con la mente, col pensiero, mentre man mano che esce dai vostri piedi viene assorbito dal pavimento. Immaginate fin quando tutto questo fumo non è uscito. Ora siete totalmente circondati dalla colonna di luce. Continuate a tenere gli occhi chiusi e continuate a rimanere lì. Aumentate il respiro, fate respiri profondi, come se voleste respirare questa luce. Rimanete ora con gli occhi chiusi e respirando in maniera profonda, rimanete, restate a immaginare questa luce che vi circonda. Quindi, inspira, espira, inspira, espira. inspira, 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 inspira. inspira, 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 inspira. inspira espira mentre continuate a inspirare ed espirare con questo ritmo immaginate la colonna di luce che viene completamente assorbita da voi stessi quella luce sta entrando dentro al vostro corpo tenete gli occhi ancora chiusi concentratevi di nuovo nel silenzio solo sul rumore del tamburo attrappare la colonna di luce aprite gli occhi ora scrollatevi un attimo come se vi rimetteste a posto nel 99% delle vostre emozioni dei vostri stress delle vostre ansie di prima di cominciare l'esercizio dovreste sentirvi ora leggeri, puliti dentro dovreste avere le idee chiare quindi se ora pensate a un solo singolo problema dovrebbe venirvi in mente già una possibile soluzione dove ci sono dei progetti dovrebbero venirvi nuove idee questo esercizio è utilissimo a parte il ripulirsi e il concepire meglio tutto ciò che ci circonda ma è utilissimo anche in alcune determinate situazioni farlo quando si ha un problema aiuta alla fine dell'esercizio a trovare una soluzione farlo quando si vuole mettere in pratica qualche progetto si ha bisogno di qualche idea innovativa aiuta a ritrovarla subito farlo anche quando si vuole praticare anche in campo culto esoterico prima di fare un rituale prima di studiare i tarocchi prima di studiare il pendolo prima di tentare un esperimento con la guia non lo so sto facendo degli esempi prima di fare un qualcosa è un metodo di purificazione psicologica e di riallineamento dei nostri fulcri energetici estremamente valido anche per chi vuole sentire e comprendere meglio ciò che lo circonda anche di sovrannaturale aiuta ad andare a dormire con i canali aperti in grado di poter percepire sognare entità defunti antenati avi aiuta anche in preparazione a un esercizio per esempio per una tentata uscita astrale o prima di praticare per esempio la tecnica del sogno lucido di cui avevo parlato in un video ormai datato e altre tecniche anche sul sogno lucido perché purifica anche le nostre percezioni la nostra sensitività pulisce tutto purifica tutto ed è la base per imparare anche e poi farò più in là un altro video di questo tipo per imparare a direzionare le proprie energie sottili positive non solo su noi stessi ma anche sugli altri un parente che sta male un amico che ha un problema un problema di salute e mille mille altre situazioni nelle quali vorreste inviare delle energie di purificazione su qualcuno è anche un ottimo contrastante di energie pesanti o come le chiamiamo qua noi in occidente negative inviate dagli altri quindi ci ripulisce dalle invidie dai malocchi da eventuali fatture anche è un un esercizio valido ripulente rienergizzante e che aumenta le proprie capacità proprio psichiche in generale per tutto quindi mi sembrava a questo punto del canale una cosa utile quando farò il prossimo vediamo quanto può interessare quanto potrà interessare questo perché io vado sempre per tentativi e anche per livelli perché comunque adesso è tre anni che do spiegazioni e si può cominciare a fare qualcosa di un po' più concreto anche come base dicevo per imparare poi a fare altro questo si può fare ogni volta che ci sentiamo appesantiti attaccati da negatività che abbiamo dei problemi che vogliamo risolvere qualcosa che vogliamo le idee chiare che vogliamo essere leggeri anche solo se siamo troppo stressati e poi impareremo le altre tecniche interessante e utile anche per me mentre riposo il mio giambè sarebbe che mi raccontaste alla fine come è andata come vi sentite e se lo praticate più volte anche come va di volta in volta se ci sono delle migliorie dei miglioramenti se vi sentite meglio e via dicendo stasera è così e con questa penso di inaugurare anche il titolo di una nuova playlist che boh probabilmente intitolerò esercizi sciamanici perché per ora solamente di esercizi sciamanici voglio approfondire tra i vari video ovvio delle altre playlist solite il video è finito se non vi siete addormentati vi do la buona notte qua sotto come al solito tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più sotto 3 o 4 degli invece mille milla link che tengono in venite i miei libri Lady Ghost Lady Sadako di Nassino che prima non le avevo fatte salutare mamma mia ora salutano e noi invece ciao